Ho pensato, di solito lo chiuso sempre, anche in allenamento, però è partito male. Non ho alibi, io sono qua, sono venuto a venire qua apposta, ho chiesto di venire qua per chiedere scusa a tutti quanti, ai tifosi, alla gente, ai miei compagni, al mister, credo che oggi è colpa mia, è stata colpa mia e mi assumo tutte le responsabilità, perché alla fine il rigore poteva cambiare la partita, credo, e potevamo stare qua a parlare di un'altra partita, però io soffro dentro, quindi volevo parlare con voi e dire di non dare la colpa ad altri, perché oggi le colpe sono tutte mie e è giusto così. Ci saranno questi tre giorni per smaltire, pensare subito al Vicenza e insomma, ripartire. Sì, è passato un po' troppo tempo, però ero anche tranquillo, mi sentivo anche bene fisicamente, ho sbagliato, non ho alibi, non trovo scuse, so che magari perderò la fiducia di tanti di voi, e tanti tifosi, ma questo è il calcio e l'episodio ci può stare, anche se io non ci doveva proprio stare, però ho sbagliato. A dire che il calcio di rigore l'hanno sbagliato tutti? Sì, no, questo mi confordo. L'hanno sbagliato tutti, non è questo il problema, è tutto come la sconfitta, non può essere colpa del singolo. No, però sai, se segno a rigore, loro hanno fatto un tiro in porta, credo che il risultato magari finisce a due. Un cambio diverso non la perdiamo, non è vero il problema, si perde i 11 e si vince i 1. No, hai ragione. Magari ci fai vincere sabato, non è il problema. No, hai ragione. Questa squadra ha adesso la forza per reagire, perché vediamo tanti ragazzini, qualcuno di voi che è più esperto, e non lo sbagliato, perché sono uno molto di cuore, non sono uno che se ne sbatte o che non gliene frega niente. È normale che adesso sto un po' così deluso, però credo che oggi ho visto una squadra, soprattutto nel secondo tempo, che aveva voglia di portare a casa la vittoria. Poi sbaglio il rigore, l'episodio e loro in ripartenza hanno fatto un tiro in porta e vincono loro. Però questo è il calcio.